I cuochi in festa, un modo originale, concreto e perfettamente nel vostro stile, compatibile quindi alla vostra attività per concludere e festeggiare un anno di attività sociale. Sebi Sorbello, Presidente Provinciale della Federazione Italiana Cuochi, momento di aggregazione, di confronto, di crescita. E' proprio così questa giornata che abbiamo titolato come la grande festa della selezione dei cuochi e vuole riassumere le attività che sono le attività associative di un anno, quindi la condivisione, la formazione, il rapporto con le aziende che ci stanno sempre accanto e poi questo sigillo che diamo anche col nostro gadget che è il grembio da collezione. Una giornata che appunto ha visto tantissimi soci accanto a noi e continua a confermarsi che i soci hanno voglia di stare insieme. La Federazione Siciliana e la Federazione Catanese sono fra le più numerose nell'organigramma vostro nazionale, quindi una presenza non solo numerosa ma anche altamente qualificata. Sì, assolutamente. Catania è la terza provincia in Italia per numero di soci e una tra le prime anche per numero di attività. Quindi siamo tra i record positivi di questa nostra federazione. E tra mare e anche buona cucina naturalmente. Il terzo segmento è quello che forse in questo momento può trenare maggiormente la bilancia del turismo siciliano. Sì, ma poi credo che in Sicilia non è che bisogna concentrarsi troppo per fare buona cucina, bisogna guardarsi attorno perché la Sicilia dà degli ingredienti, dà delle sfaccettature splendide della gastronomia, quindi basta guardarsi attorno e fare della buona cucina. La filosofia insomma del prodotto è chilometro zero? È una filosofia che soprattutto nella nostra terra non può che essere rispettata perché un pomodoro in Sicilia continua ad avere profumo e sapore di pomodoro, così come una zucchina, così come un pesce delle nostre coste. Non per voler essere patriottisti, ma credo che la Sicilia continua a conservare queste grandi eccellenze.